Dietro la presenza di ieri mattina ad Agropoli della DIA ci sarebbe l'accusa di voto di scambio. Infatti sia l'ex sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, che l'attuale sindaco Adamo Coppola sarebbero indagati per presunto voto di scambio elettorale politico mafioso e concussione nelle indagini. Sarebbero coinvolti anche esponenti del noto clan dei Marotta, ma Alfieri si dice sereno e fiducioso e confida nel lavoro della magistratura. Cielo sereno non teme tempesta. Con questa frase Franco Alfieri, ex sindaco della città di Agropoli, scrive sul suo profilo Facebook in merito ai controlli effettuati dalla DIA ieri mattina presso la sua abitazione e il suo ufficio legale. Il mio studio legale ad Agropoli e la mia abitazione a Torchiara sono stati oggetto di una perquisizione da parte della DIA di Salerno. Mi dispiace che queste hanno luogo nel pieno della campagna elettorale. Nell'esprimere, come sempre, la mia piena fiducia nel lavoro della magistratura, vado avanti a testa alta perché la forza di un uomo è anche quella di reagire alle difficoltà e mettere ancora più energia e determinazione nel lavoro quotidiano.